Attenzione adesso questa palla, Guagni dentro l'area, prova il sinistro, dall'altra parte arriva Adamin in ritardo. Salvatore Rinaldi che prova il cross, il rinvio di Mauri, Scarpellini, regala il pallone a Ferranti che prova la conclusione, la palla sopra la traversa. Mauri, va Mauri, Perini scambia ancora bene dentro con Mauri, a campo il cross, Tarenzi, la palla finisce fuori di poco. Va Tarenzi, aspetta l'arrivo di Scarpellini che prova la conclusione dai 25 metri, palla debole. La destra, il cross, Scarpellini anticipata, però subito Chiara Piccino, all'altissima. Ancora Mozzani che in avanti, con Mauri, prova la conclusione direttamente in porta. Nasuti adesso, avanza Nasuti, prova la conclusione in porta, attenzione. Aiutata da Tonani che va al cross, Piccino, la conclusione fuori di poco. Tarenzi fa scorrere il pallone, entra in area Tarenzi, il cross per Chiara Piccino, arriva Piccino! E gli attacchi risultano magari meno efficaci. Attenzione, questa palla dentro per Tarenzi che va alla conclusione, il palo! E non poteva mancarci. Tanto Mauri ruba un pallone, attenzione, occasione, Piccino, Piccino, palla scambiata con Mauri, al limite, e Claudia Mauri, il tiro centrale, gli ruba il pallone, ma poi ancora Mozzanica, Scarpellini, prova a girarsi verso la porta, paletto per Piccino, Tarenzi è sola, attenzione, Tarenzi prova il pallonetto. Il primo si inizia con questo calcio di punizione di Scarpellini, teso dentro l'ala, il colpo di testa, la traversa, Tarenzi, gol! Goal! Stefania! Tarenzi! E dopo tanto spingere, alla fine il gol è arrivato. Esplosione di gioia in tribuna.